buongiorno gufette allora questo è un video un po particolare perché è la prima volta che ne giro uno così ed è un video all di saldi che ho fatto sul sito di hm e appunto ho comprato tutto online perché in generale nei negozi non trovo mai niente tutto messo strano boh mi perdo sempre mi perdo troppo e quindi alla fine non riesco mai a comprare niente anyway vi dovrete supportare la mia voce in voice over mentre vi mostro le roppe si non ho preparato un intro visiva quindi vi saluto a voce con questa bellissima immagine di sottofondo e io direi di iniziare allora iniziamo con questo maglione bellissimo e morbidissimo ed è super caldissimo e questo però è un xs infatti non pensavo fosse così grande e dopo prendo la xs mi starà giusto io adoro le cose grandi quindi mi piace lo stesso mia copre po ponci e l'ho preso soprattutto per la frase che ha davanti cross my heart perché heart perché in tantissime canzoni che mi piacciono trovo questo detto c'è anche nei my little pony in realtà la promessa di pinky by e quindi l'ho preso per questo e il maglione lo dovrei aver pagato 12 euro comunque vi lascio tutto qui sotto adesso c'è una simpatica sciarpuna di quelle ad anello ecco è veramente veramente morbida è uno spettacolo mi pare di averla pagata a 5 euro ecco quasi tutte le cose le ho pagate 5 euro a parte il maglione che mi pare venisse 10 una roba del genere ho preso questa maglia questa t shirt che ho scritto keep calm and get over it e che pronuncia è lunga è molto morbida mi piace molto i prezzi come al solito ve li lascio nell'info box e vi lascio anche i link se ci sono ancora sul sito bene e invece questa è una collana che ho comprato perché l'avevo vista nel video di silvia p comunque vi lascio il suo canale qua in giro ed è bellissima perché mi ricordava molto nana del manga lo che è è dorata ed è un po tamarra per questo però infatti se ci fosse stata argento l'avrei presa argento molto volentieri arriviamo a quello che penso sia il pezzo forte dell'oul perché è una canottiera fighissima dall'immagine sul sito mi era venuto in mente che fosse una di quelle con le ascelle enormi tagliate che io odio ed è enorme infatti come vedete mi siede il reggio di seno non mi segnalate grazie è molto bella vedremo vedremo se la userò in pubblico o no al massimo la uso per pole dance che va sempre bene ecco l'ultima cosina che ho comprato perché è veramente veramente carina è questa maglia molto corta non è un crop top per fortuna perché odio i crop top e ha lo scollo a barca si dice sulla schiena e davanti a questo cuore fatto in forma di cassa toracica veramente 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 carina ecco questo era un haul abbastanza sbrigativo non so se vi può piacere che continui a fare i video così vediamo come viene alla fine l'importante è far vedere i vestiti voi sapete che io mi dilunghi in chiacchiere magari non a tutti può piacere che io mi dilunghi in chiacchiere per cui spero che questo video vi sia piaciuto ditemi come preferite vedere i video haul se quello l'ultimo dei saldi che ho postato come questo qua vi lascio tutto nell'info box tanti bacio stara mimi